ma che stanno l'oliva al frigo? eh no? che c'è no? olive l'oliva c'è un'altra cosa no? l'oliva non c'è stanno? ma che c'è stanno? che cazzo? ma che ne so? ah si si stanno dentro un'altra cosa ne si vede beh che dico divini appometto con me divini o no? non vieni che venga qua che no ma che che non vieni ma che diserci ciao 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 Grazie.